Alessandro Il Grande è Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, buon delega alla Polizia Municipale, oggi al Palafiori, oggi e domani un importante convegno di aggiornamento per gli agenti della Polizia Locale. Quanto è importante innanzitutto l'aggiornamento per gli operatori che stanno in strada tutti i giorni? Innanzitutto con soddisfazione che è stata scelta Sanremo come città per questo convegno sulle Polizie Locali. Molto importante soprattutto per gli agenti di Polizia Municipale che operano su tutte le tematiche importanti che vanno dalla contravenzione del codice della strada, alla lotta all'abusivismo, agli abusi di inizio. Pertanto avere degli aggiornamenti, delle risposte concrete fa bene soprattutto in questo caso a noi, alla città e agli operatori. Quali sono gli indirizzi principali che poi darete al vostro comando sulle problematiche principali che ci sono in città? Bene, noi col sindaco andiamo nelle sedi opportune, abbiamo dato degli indirizzi ben precise. La nostra è una città dove comunque le problematiche non sono delle grandi città, ma abbiamo problemi come la lotta all'abusivismo, abbiamo il problema dei crociard. Noi stiamo lavorando su queste tematiche che i cittadini tutti i giorni richiedono e pertanto l'indirizzo è quello di avere una città più sicura e tranquilla.